ossa e muscoli formano l'apparato locomotore nel corso di scienze verrà svolta un'introduzione ad esso ma rimandiamo al corso di educazione fisica per integrazioni ed approfondimenti ti ricordo che questa rappresenta una sintesi di quanto è esposto in maniera più estesa nel tuo libro di testo i muscoli scheletrici sono organi in grado di contrarsi in seguito ad uno stimolo sono muscoli volontari perché la durata e la forza della loro contrazione è regolata dal sistema nervoso centrale un muscolo è formato da lunghe fibre muscolari le cellule muscolari unite da tessuto connettivo tramite cui fibre nervose e vasi sanguigni raggiungono le singole cellule il citoplasma di ogni fibra contiene molte miofibrille sono circondate da un tipo particolare di reticolo endoplasmatico sono suddivise in sarcomeri il sarcomero infatti è l'unità contrattile ogni miofibrille è costituita da due tipi di filamenti filamenti spessi formati da miosina filamenti sottili formati da actina miosina e actina sono delle proteine nella fibra del tessuto muscolare striato questi filamenti sono disposti in modo ordinato i sarcomeri hanno tutti la stessa struttura e sono saldati l'uno all'altro tramite stri e z il sarcomero infatti è la porzione di miofibrilla compresa tra due linee z alle linee z sono ancorati filamenti sottili mentre nella parte centrale del sarcomero sono posti i filamenti di miosina actina e miosina sono parzialmente sovrapposti il meccanismo della contrazione i filamenti di miosina presentano delle appendici che all'arrivo di un impulso nervoso si agganciano ai filamenti di actina formando dei ponti trasversali l'idrolisi dell'atp permette ai filamenti di miosina di trascinare verso il centro del sarcomero i filamenti sottili per cui il sarcomero si accorcia assieme a tutti i sarcomeri della stessa fibra muscolare la contrazione avviene grazie al rilascio di acetilcolina nella giunzione neuromuscolare l'acetilcolina infatti è il neurotrasmettitore che viene rilasciato all'interno di questa sinapsi tra il motoneurone e la fibra muscolare il potenziale post sinaptico nella fibra muscolare induce il rilascio di ioni calcio dal reticolo sarcoplasmatico gli ioni calcio si legano a delle proteine accessorie poste sui filamenti sottili le proteine accessorie si chiamano troponina e tropomiosina queste proteine in condizioni di riposo coprono nei filamenti di actina i siti di attacco per la formazione dei ponti trasversali cessato l'impulso del potenziale d'azione il calcio viene recuperato attivamente e il pomero torna in condizioni di riposo l'unità motoria un muscolo è costituito da moltissime fibre muscolari gruppi di fibre muscolari si contraggono simultaneamente perché sono innervate dallo stesso motoneurone e costituiscono una unità motoria maggiore il numero di unità motorie che si attivano e maggiore sarà la contrazione del muscolo del muscolo skeletal muscles are composed of fasciculi bundles of individual muscle cells or fibers each muscle fiber in turn has within it many myofibrils surrounded by the sarcoplasmic reticulum and t tubules each myofibril is composed of many actin and myosin filaments projections from the myosin filaments the myosin cross bridges interact with sites on the actin filaments to produce contraction each myosin filament is surrounded by six actin filaments the cross bridges project outward from the myosin filament toward the actin filaments in crowns of three arranged at fourteen point three nanometer intervals along the myosin filament each crown of three cross bridges is rotated sixty degrees with respect to the previous crown but all cross bridges extend toward an actin filament there are approximately two hundred to four hundred cross bridges for any one myosin filament striated or skeletal muscle is attached to bone and makes movement possible a muscle structural pattern is a series of increasingly smaller parallel units the muscle is composed of fascicles each fascicle consists of several fibers each fiber is an elongated cell with many nuclei within each fiber are myofibrils composed of thick and thin filaments made of protein the regular arrangement of these filaments gives striated muscle its striped appearance the basic functional unit of a muscle is the sarcomere a section of a myofibril one is shown here bordered by the crooked blue lines a sarcomere is composed of thick filaments of myosin in red and thin filaments of actin in blue muscle contraction is the result of these thick and thin filaments sliding past one another with calcium elevated around the myofibrils myosin binding sites on actin are exposed allowing interaction of the myosin cross bridges with actin release of the myosin cross bridge from actin requires binding of ATP after ATP binds it is split to ADP and inorganic phosphate the energy derived from this reaction is utilized to cock the cross bridge in preparation for the power stroke the power stroke is initiated when the myosin cross bridge binds to actin the cycle begins anew when another ATP binds to myosin at rest most cross bridges are in the cocked configuration prepared to interact with actin when the tropomyosin troponin complex is moved away from myosin binding sites on actin by calcium ions we call it all out, 312 max we call them a 50-580-150 toם we call them orchid we call them as 40-508-508 we call them how farfar the collegiate load we call them into backbone the racism